Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove Salomon Thunder Cross, ovvero una scarpa da Ultra Trail pensata appositamente per correre su fango o comunque situazioni bagnate. Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito da qualche caratteristica fornita dalla casa per queste Thunder Cross. Troviamo una suola Contagrip in proprietà di Salomon. Anche l'intersuola è di casa Salomon, ovvero un Energy Foam con drop di 4 mm, il tutto per un peso di 290 grammi nella taglia 42 uomo. E adesso che abbiamo visto qualche caratteristica, iniziamo con i pregi e difetti. Iniziamo come al solito dalla suola di queste Thunder Cross. Come vi dicevo troviamo una suola Contagrip di proprietà di Salomon. Una suola che abbiamo già visto, già conosciuto. La particolarità in questo caso è che troviamo dei tasselli alti 5 mm e anche molto ben distanziati. Questo fa sì che questa scarpa abbia un grip fenomenale sul fango. Vi assicuro, correndo su fango anche quello bello viscido, ha un grip fenomenale. E naturalmente, avendo questi bei tasselli distanziati, il fango si libera molto velocemente dalla suola evitando che si formi lo zoccolo. Per quanto riguarda invece la corsa su quello che può essere una roccia bagnata, qui c'è da fare un po' una distinzione. Diciamo che la maggior parte delle rocce non ha nessun problema. Ho trovato che scivola un pochino magari su quelle rocce un pochino unte. Vi faccio un esempio, magari se trovate qualche mulattiera dove ci sono passate un sacco di gente da tantissimi anni, lì si scivola un pochino. Ma per il 99% del tempo su rocce anche di alta montagna davvero ha un bel grip. E poi naturalmente il grip è ottimo anche su tutto quello che è strada bianca, single track, eccetera. L'unica cosa, se utilizzata su del terreno non proprio appropriato, terreno duro, tende a consumarsi molto in fretta. Però comunque è una suola abbastanza morbida. Arriviamo dunque a parlare dell'intersuola, come vi dicevo, Energy Foam. Questo intersuola mi è piaciuto perché ha un ottimo compromesso tra ammortizzazione e reattività. Con questa scarpa ci si può correre tranquillamente anche a 4.20, 4.30 al chilometro, ma nonostante ciò ci si riesce tranquillamente a fare anche delle gare sui 60-70 chilometri. Perché comunque l'amortizzazione c'è e come vediamo ha un 31 mm di altezza nel tallone. Devo dire, un ottimo intersuola e io questa scarpa l'ho utilizzata anche tanto, ci ho fatto più di 150 chilometri. E devo dire davvero di non aver avuto nessun problema, soprattutto anche alla lunga, nel senso che non è andata ad afflosciarsi in questi primi 150 chilometri. Continuiamo, passiamo a parlare della parte superiore della tomaia, iniziando dal puntale. Qui troviamo un puntale mediamente duro. Diciamo che non è durissimo, che se ci prendete a calci una roccia non sentite nulla, ma non è nemmeno così morbido che invece sentite un dolore atroce. È una via di mezzo, diciamo. Un po' ci protegge, ma se proprio tirate un calcio secco a una roccia, il male lo sentite. Quello che vi ha stupito veramente tanto di questa tomaia è la sua resistenza al fango e alla pioggia. Per intenderci, era utilizzata praticamente quasi solo sotto l'acqua e nonostante questo modello che io stia provando non è la versione in Gore-Tex, di acqua all'interno ne è entrata pochissima. Fango pochissimo. Essendo una scarpa pensata per tutto quello che è appunto fango, devo dire che è una tomaia veramente fenomenale. Perché nonostante si possa correre su superfici bagnate o all'interno di fango bello bagnato, l'acqua difficilmente entrerà. Quindi davvero ottimo. Poi naturalmente se mettete il piede invece all'interno di un ruscello l'acqua entra, quello è normale. E invece per quanto riguarda la traspirabilità diciamo che quella è veramente bassa. Essendo una tomaia bella fitta, proprio per evitare l'ingresso di acqua e fango, quello che è la traspirabilità è abbastanza bassa. Altro aspetto molto interessante di questa tomaia è il sistema SenseFit, che lo vediamo dopo magari quando ne parliamo dei lacci, ma vi assicuro che è un sistema che va a proteggere molto bene il piede anche sulla parte laterale nel caso dovessimo strusciare contro una qualche roccia o radice. A livello di tallone troviamo un tallone mediamente strutturato nella parte bassa che si destruttura pian piano che si sale. Un tallone comunque che svolge un ottimo lavoro. Devo dire che comunque essendo una scarpa alta 3 cm io non ho avuto grandi problemi distorte, qua poi dipende anche dal vostro allenamento con la vostra caviglia, però in generale mi sono trovato abbastanza bene. L'imbottitura non è enorme, è comunque una scarpa che tende un pochino al minimalismo, però in generale devo dire che dal punto di vista dell'imbottitura ci si corre tranquillamente anche in obliquo senza nessun problema. Per quanto riguarda linguetta e lacci, allora la linguetta è classicissima, davvero una linguetta molto molto classica e svolge un ottimo lavoro. I lacci invece qui troviamo sistema Quick Lace di Salomon. Qui secondo me va molto a giudizio personale, a me non è mai piaciuto perché non riesco mai a stringere per bene la parte anteriore del piede, o comunque non mi piace avere un'allacciatura un pochino elastica. Però, ripeto, è una cosa abbastanza personale in questo caso, perché può piacere e può non piacere. L'aspetto invece che secondo me è veramente ottimo è quello che vi accennavo prima, ovvero il sense fit. Questo fa sì che quando andiamo a tirare i lacci la scarpa accalzi veramente molto stretta attorno al nostro piede. Davvero la scarpa, con questo sistema sense fit, segue benissimo tutti i nostri passi e il piede all'interno non si muove. A livello di soletta troviamo una soletta Orto Light, che si può togliere se volete, ma io mi ci sono trovato bene con questa, quindi andrei avanti a utilizzarla senza nessun problema. Per quanto riguarda la grandezza dell'avampiede, diciamo che troviamo una scarpa mediamente grossa. Non è una scarpa sicuramente pensata perché è una pianta del piede bella larga, ma non è nemmeno super stretta. Diciamo che è nella norma. Se avete un piede particolarmente grosso, optate per mezzo numero in più. Se avete un piede particolarmente piccolo e stretto, magari mezzo numero in meno. Arriviamo dunque a capire chi consiglio queste Thunder Cross. Allora, secondo me è una scarpa che può andare bene. Un po' per chiunque. Sia dall'atleta principiante che sta iniziando, sia dall'atleta esperto che invece vuole correre veloce. La grossa discriminante è dove utilizzarla, più che dove magari quando utilizzarla. Questa è una scarpa che va tenuta per il 90% del tempo nel nostro armadio e tirata fuori solo in quei giorni in cui piove. L'ha piovuto i giorni prima, quindi c'è tanto fango. Non è sicuramente una scarpa da utilizzare in quei giorni invece in cui c'è sole, in quei giorni in cui abbiamo delle superfici belle calde, belle asciutte, perché lì andremo a bruciare la suola. Questa è una scarpa da utilizzare quasi per il 99% del tempo su pioggia o fango. A livello di distanze poi, come vi dicevo prima, ci si può fare tranquillamente anche delle gare di media-lunga distanza. Non sarà sicuramente un problema portare a termine le gare tra i 60-80 km. Arriviamo dunque alle conclusioni per queste Salomon Thundercross. Iniziamo dal prezzo, perché vengono vendute da Salomon a 140€, online si trova sui 95-100€. Secondo me è un ottimo prezzo, tenuto conto che tantissime scarpe oggigiorno sfiorano e passano i 200€, questa secondo me è davvero un'ottima scarpa per il suo rapporto qualità-prezzo. Come vi dicevo, è una scarpa pensata e studiata esclusivamente per correre sul fango. Quello che non è fango può essere un pochino un problema, soprattutto per la sua durabilità. Quindi ragazzi, se state cercando una scarpa per il fango, per farle le gare proprio sul fango, questa è veramente un'ottima scelta. E detto ciò, io nella speranza sia stato esauramente esattivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!